In questi giorni nella cassetta delle lettere i terramani stanno trovando bollette dell'acqua decisamente più care del solito. L'aumento del 12,5%, ha già precisato più volte la Ruzzoreti, è stato stabilito e imposto dalla RERA, l'autorità autorizzata a farlo. Giustificazione che però non consola gli utenti, costretti a pagare sempre di più. Il Movimento 5 Stelle interviene sull'argomento ritenendo comunque inaccettabile e ingiustificabile l'ennesimo aumento a carico dei cittadini e solleva qualche dubbio anche sulla qualità dell'acqua captata da altre sorgenti diverse da quella del Gran Sasso. E intanto sono in arrivo le prime bollette del mese dell'acquedotto del Ruzzo, ci sono degli aumenti, almeno sembrano esserci, le bollette sono un po' alte. Voi che dite? Noi diciamo che la colpa è tutta della politica della Ruzzoreti, una politica che forse non funziona perché se continuiamo a mantenere un'azienda come se fosse un carrozzone con tantissimi dipendenti, è normale che ai tanti dipendenti corrispondano tanti stipendi, stipendi pagati dai cittadini terramani. Sono moltissimi anni, da quello che ricordo io, sono almeno 15 anni che non si fa più un concorso pubblico, ma alla Ruzzoreti si assume ancora per chiamata diretta. Noi abbiamo più volte, come Movimento 5 Stelle, abbiamo più volte fatto notare che forse bisognerebbe focalizzare l'attenzione sulla qualità dell'acqua e magari assumere per controllare i depositi, i serbatoi dove viene custodita l'acqua che viene depositata, l'acqua che noi beviamo, perché abbiamo ancora le condutture di Mussolini. Recentemente la Ruzzoreti ha presentato all'approvazione dei soci sindaci un nuovo piano industriale che prevede investimenti per oltre 30 milioni di euro da destinare alla rete idrica, fognaria e per migliorare il sistema organizzativo. Un piano che però non ha convinto il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che ha dato voto contrario. Recentemente la Ruzzoreti ha presentato un piano industriale di grande rilancio, pieno di investimenti. Sì, noi siamo fiduciosi, non abbiamo contestato questo piano e siamo fiduciosi perché il nostro sindaco, Gianguido D'Alberto, ha votato contro questo piano. Io sono anche molto fiduciosa e spero che il sindaco ascolti quella che è una mia proposta e io vorrei che insieme andassimo a controllare all'interno dei depositi dove io non ho accesso, ma ho potuto verificare con i miei occhi le condizioni di questi serbatoi dall'esterno e sinceramente sapere che io e i miei figli, ma tutti i cittadini, bevano l'acqua contenuta in quei posti mi lascia un po' di pensieri. Non dimentichiamoci anche che noi abbiamo tantissime sorgenti, noi pensiamo che la nostra acqua sia solo quella del Gran Sasso e siamo preoccupati giustamente per la vicinanza del laboratorio di fisica nucleare, ma in realtà abbiamo tantissime sorgenti e bisognerebbe controllare anche lì la qualità dell'acqua.